5 giugno ci troveremo tutti sul Tevere, zona centro, diacente al ristorante Baia per presentare questa nuova partenza, appunto ridiscendendo il Tevere, circonavigando l'Italia, passando attraverso lo stretto di Messina e risalendo tutto l'Adriatico e sbarcando e presentando questa opera in movimento alla Biennale dell'Arte di Venezia. Parlando appunto proprio di opera d'arte, ho conosciuto Giorgio De Finis, che è qua il curatore del Museo MAM, un museo che sta per l'altro e dell'altrove, in città Meticia, qui in Via Penistina, e così ho voluto esporne la mia opera, dove i ragazzini che sono qua, che occupano questo museo vivente, potranno contribuire a dipingere la mia vela, io e altri artisti. Grazie a tutti!